Ciao a tutti voi da Rosi, ancora un appuntamento con la nostra vetrina dell'auto in compagnia di Opel Concessionaria Buzzetti. Siamo qua in mezzo a questi bellissimi colori e in compagnia di Michele. Ciao Michele. Ciao Rosi, grazie, grazie mille. Un saluto a tutti, buonasera, buon pomeriggio, un saluto a tutti. Bene, signori, io non vorrei allungarmi troppo perché abbiamo tantissime offerte, ma veramente tante, perché sapete benissimo che a fine anno bisogna assolutamente vendere. Noi abbiamo tantissima disponibilità, vetture nuove usate, abbiamo delle offerte clamorose, veramente clamorose, persino tassi zero, quindi si accumula sconto, supervalutazione e finanziamenti senza interessi, quindi vi aspettiamo, vi aspettiamo tutti quanti. Ora passo la parola ai colleghi che entreranno nei dettagli di tutte le nostre offerte. A dopo, ciao. Buonasera. Ciao a tutti, da Francesco e Franco. Allora, partiamo subito con le offerte non buone, ma eccellenti di questo mese qui da Buzzetti. Dalla piccolissima, bella, bellissima Adam Gem, con sconti, rottamazione. Che sconto arriviamo, Franco? Ma arriviamo fino a, per una dangema, a 10.000 euro, non di sconto, del corso della vettura. A partire da, con ben 4.500 euro di sconto rottamazione. E per quanto riguarda la bella corsa B-Color, in offerta, sempre con sconto rottamazione, a 9.950 euro. Più IPT, eh. Specifichiamo che l'IPT è sempre a parte perché... Però venite, perché per quanto riguarda i preventivi sono personalizzabili. Vi facciamo il massimo. Non dimentichiamo una cosa, che il finanziamento tasso zero, perciò decidete voi l'anticipo e tutto, compreso anche l'assicurazione, furto incendio, atti vandalici, calamità naturale, cristalli, per tutta la durata del finanziamento e supervalutazioni della vostra macchina usata. Indipendentemente che sia da rottamare, che non sia da rottamare, ma il massimo della supervalutazione della usata. La gamma X. Gamma X. Ecco, signori, guardate un po' voi. Questo qui è il bellissimo, nuovo SUV Grandland di Opel. Parla da solo perché è una linea veramente eccellente, con delle caratteristiche, con tanta tecnologia, che noi comunque, quando venite a trovarci in concessionaria, vi presenteremo, vi illustriamo, chiaramente anche potete provare la macchina. Ecco, ci chiedete un test drive, ma non c'è nessun problema. Io mi ripeto ancora, vi aspettiamo qui, dal Buzzetti, per fare le prove, per fare il test drive. E per quanto riguarda invece... Abbiamo poi Urban Crossland, anche qui con campagna rottamazione, a 14.900 euro. Perciò un prezzo eccezionale. Un prezzo eccezionale, anche su questi SUV veramente di casa Opel, sono proprio belli... No, scusate, bellissimi. Finanziabili totalmente. Non dimentichiamo Mokka X, che sta andando veramente alla grande. Mokka X fino a 7 milioni, no, 7 mila euro di supervalutazione. Ok, sempre a partire da 16.900 euro. E ora, signori, vi chiamo il mio collega Dimitri, che vi spiegherà tutto sui veicoli commerciali. L'esperto. L'esperto dei veicoli commerciali. Dimitri, vieni! Grazie mille. Allora, l'esperto dei veicoli commerciali è una parola grande, assolutamente. Poi vi spiegherò tutto. È tutto da scoprire. Prima Francesco, appunto, diceva eccellenti offerte, eccezionali offerte, su una macchina presentata adesso, a partire da 21.900 euro ci metterei bene. Comunque, veicoli commerciali, superammortamento, mi raccomando, c'è ancora superammortamento. Ci sono dei leasing agevolati, dei finanziamenti a tasso zero. Ci sono un sacco di veicoli pronti a consegna a terra, che possono andare bene alla vostra azienda. Se non dovessero andare bene, ve ne costruiamo uno su misura. Abbiamo la rottamazione su alcuni veicoli commerciali, perciò anche se avete un mezzo obsoleto, molto vecchio, da noi vale sempre qualcosa. Avete una permuta, ve la supervalutiamo. Abbiamo di tutto e di più. Non mancheremo, vi stupiremo sicuramente. Veniteci a trovare. Vi aspettiamo tutti quanti. Un saluto a tutti anche da Maurizio. Partiamo con la presentazione delle nostre vetture, usate a chilometri zero. da un'Opel Corsa 1.2 5 porte, Advance, del settembre 2017, a 10.300 euro. Passiamo ora a una Opel Adam, 1.2 70 cavalli, modello Gem, settembre 2017, chilometri zero, a un prezzo di 10.950 euro. Ora vi presento una Opel Mokka, 1.6 diesel, 136 cavalli, 4x4, una vettura allestimento innovation del settembre 2016, con soli 8.500 chilometri, a 23.400 euro. Una trasplendida Opel Mokka, chilometri zero sempre, del settembre 2017, full optional, navigatore, cerchi in lega, bicolore, sensore di parcheggio anteriore e posteriore con elettrocamera, a 19.900 euro. Peugeot 2008, diesel, 100 cavalli, modello active, un vetture posteriore oscurati, cerchi in lega, sensore di parcheggio posteriori, chilometri zero del maggio 2017, a euro 16.900. Ora vi presento una splendida Opel Corsa, 1.4, benzina, GPL, doppia alimentazione, 90 cavalli, il modello Enjoy, del giugno 2017, come prima in matricolazione, a un prezzo di 11.500 euro. Ora passiamo a una Opel Corsa usata, 1.2, tre porte, il modello elective, del luglio 2011, con 48.940 chilometri, una vettura tenuta molto, molto bene, a un prezzo di 6.900 euro. Panda Multijet, 1.3, 95 cavalli, 4x4, sempre, chilometri zero, del marzo 2017, a un prezzo di euro 15.600. Ora è la volta di una vettura straordinaria, una Opel Insignia 2.000 diesel, 4x4, 170 cavalli, automatica, country tourer, una vettura full option, ha su veramente tutto, tetto panorama, cerchi in lega bicolore, navigatore, interne in pelle, sensori di parcheggio anteriori e posteriori. È una vettura straordinaria, con 13.490 chilometri, quindi è una vettura praticamente pari al nuovo, a un prezzo di euro 28.900. Ora passiamo in rassegna a altre due nostre chilometri zero, una Opel Corsa 1.2 5 porte, modello bicolor, con IntelliLink, cerchi in lega bicolore, del settembre 2017 come matricolazione, a un prezzo di 11.200 euro. Passiamo ora a un'altra vettura gemella, praticamente cambia il colore, questa vettura è sempre una bicolor, sempre del settembre 2017, chilometri zero, a 11.300 euro. Questa vettura ha in più dell'altra, i 100 euro sono giustificati dal sedile posteriore sdoppiato. Ora passiamo a una Fiat 16 usata, 2000 Multijet 4x4 Dynamic, 4x4 inseribile, del giugno 2012, con 79.330 chilometri, a un prezzo di 9.100 euro. Opel Mokka, 1.6 diesel, 136 cavalli, 4x2, automatica, dell'aprile 2016, con 21.000 chilometri, a un prezzo di 18.500 euro. Passiamo ora a una Opel Astra 1.6 diesel, Sport Tourer Cosmo, del settembre 2015, con 89.000 chilometri, a un prezzo di 13.900 euro, una vettura veramente molto molto bella. Poi passiamo a un altro nostro chilometri zero, una Opel Corsa 1.2 Enjoy Coupé, gennaio 2017, a un prezzo di 10.150 euro. Ora passiamo a una nostra vettura usata, una Renault Clio 1.2 16 valvole, Comfort, modello Comfort, benzina GPL, del febbraio 2010, 33.800 chilometri, a un prezzo di 6.800 euro. Abbiamo anche disponibilità di Fiat Panda, basso chilometraggio, sui 20.500 chilometri, nero e grigia, del gennaio 2016, a un prezzo di euro 8.300. La splendida Volkswagen Up, 1.000, 3 porte, white, modello white, del maggio 2012, con soli 31.000 chilometri, a un prezzo di 7.400 euro. Ora vi presento una Opel Astra 1.4 Turbo, Sport Tourer Cosmo, vettura usata con 55.900 chilometri, aprile 2011, a un prezzo di 10.900 euro. Passiamo ora a una Opel Astra chilometri zero, 1000 turbo, modello Innovation, una vettura con suo navigatore, sensore di parcheggio anteriori e posteriori, è una vettura molto molto completa, a 18.700 euro. Opel Mokka, 1.6 diesel, 4x4, modello bicolor, una vettura veramente bellissima, con 4.000 chilometri, del novembre 2016, a un prezzo di 23.800 euro, una vettura full optional. Passiamo ora a un chilometri zero, sempre Mokka X, 1.400 turbo, 140 cavalli, Innovation, del settembre 2017, a un prezzo di 20.200 euro, anche questa è una vettura full optional. E ora un'altra nostra chilometri zero, sempre Opel Corsa, 1.200 5 porte Advance del settembre 2017, che proponiamo a un prezzo di 10.300 euro. Le vetture che vi ho appena presentato sono solo alcune delle vetture che abbiamo in stock. Vi invito a venirci a trovare per valutare tantissime altre opportunità, quindi in sede da noi, sicuramente troverete la vettura che fa per voi e per le vostre esigenze. Io vi ringrazio moltissimo, alla prossima. Bene Michele, avevi preannunciato sconti e finanziamenti davvero straordinari, insomma se lo dice lui che è responsabile, voglio dire, ci sarà un motivo. Ah sì sì sì, assolutamente, vero vero, Rosi ha ragione, quindi spero che insomma le offerte, le descrizioni sia state chiare. Vi aspettiamo numerosi, chiedetici test drive, ci fa piacere anche perché abbiamo tantissime novità, nuove vetture. A presto, vi aspettiamo. Ciao. Ciao.